Marietta, ma perché ti portai a vestire l'onga come a chiedere tua nonna? E non ti metti la conna a franco bullo? Io mi ne ganna non ne porto perché sogno fresco come i rosi perciò non hai bisogno di bigliariaria. Ma io ti voglio vire vestuta a l'ultima novità, moderna. Ah, mia, che ti interessa? Anzi, mi ha fatto paura di non venire mi chiudo appresso perché io e i cagnolini a casa lascio. Com'è a fare questo farfallone? C'è sempre attorno mi vieni a girare ma come ti lasciri i baffasoni dal lume cori non ci puoi arrivare a tuta su come ti chiede da mia cercana cucca che si mi chiazia va da stasigna come sguazzaria e pigliavano i baffasoni da muri ti giuro attorno per simpatia ma sullo ricchi fatti, sullo scultore a fare mascherone brutta sai e a tia come modella mi pigliai mi chiede da fai non mi vieni a capire non è più mai non è più mai non è più cosa non è più mai non è più cosa E' questa ricritta l'ustazzone, e tanto c'ha formato un talaspetto, che ha sito intorno che studi l'unetto. Si non sbriogna ti ha un malizetto, tu si cagliorda e testa senza sali, che se ti lavi a Pasqua mi scommetto, a su tu poi ti lavi per i Natali, così in marita ti ha di gran consolo, si tinge Danielina e di Vizziolo. C'è l'uomo e cori di Parra in Avara, un'icitegnatia scaduzzo mio, Stendo agli vini come una carcara, e chissi solo tu lo mi dici io. Per ora che lo cori mi sfugamo, a braccia di cumiani maritano.